Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Sarecino da Benessere, ipnosi, soluzione. Oggi rispondo ad una persona che mi ha parlato del figlio che si droga, che non sa più cosa fare, che ha questa tragedia in casa, cosa può fare con l'audio MP3 di ICS dal titolo No droga, di ipnosi di ICS vera e professionale. Io le ho consigliato di seguire l'istruzione alla lettera. Anche se suo figlio non partecipa, rispondo pubblicamente in modo tale da ispirare anche chi vuole utilizzare lo stesso MP3 di ICS No droga anche per chi non vuole il tuo aiuto, perché è pieno di sensi di colpa, per cui vuole passare all'altra vita a causa della droga, per punirsi inconsciamente, mai con la ragione, attenzione, perché nessuno con la ragione e con la logica dice voglio drogarmi, voglio morire, voglio ingrassare, voglio bere, voglio cazzeggiare dalla mattina alla sera. Però purtroppo una forza più forte di lui che è il suo subcosciente, il suo pilota automatico, l'88% della sua mente, la sua immaginazione comanda sulla volontà, ragazzi. Perché quando c'è conflitto tra immaginazione e volontà vince sempre la immaginazione, sempre il subcosciente, che è l'88% della mente dell'essere umano, contro il 12% della ragione, della logica, della forza di volontà. Per cui se suo figlio è nell'oceano, negli abissi, nel tunnel della droga, qualsiasi tipo di droga, cocaina, eroina, marijuana, fumo, ecstasy e chi più ne ha più ne metta, lei può toglierlo da questa dipendenza o facendolo partecipare, seguendo sempre l'istruzione che le invierà la mia associazione, i prologi associati di Los Angeles, oppure anche contro la sua volontà, la sua insaputa, seguendo sempre le istruzioni, che sono semplici nell'utilizzo a prova di nonna, a prova di pigro, a prova di idiota. Quindi non si preoccupi, non vi preoccupate, sono semplicissime, perché sono veramente esperite, sperimentate sul sottoscritto da più di dieci anni, possiamo dire quasi dodici, dove il sottoscritto si ipnotizza da solo, anche adesso sono ipnotizzato e ha utilizzato lo stesso sistema su centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo, online soprattutto, ma anche dal vivo. E nella mia associazione i prologi associati, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai hanno aiutato migliaia di persone a Los Angeles, in tutta l'America Latina e anche a Hollywood, presso le star hollywoodiane. Molte volte non si possono fare i nomi, ragazzi, per la privacy, come potrai ben capire, ma basta andare su YouTube e vedere dottoressa Rina Brunini, l'associazione i prologi associati, il professor Michelangelo Garai, per capire di che cosa stiamo parlando. È un metodo, il mio metodo, un metodo di cese unico al mondo, che proviene direttamente da Los Angeles e che non ha nessuno ed è molto diverso, per non dire totalmente diverso, dall'ipnosi conformista al commerciale e tutto ciò che ruota attorno da parte di guru e meno guru in tutto il mondo. Uno degli esempi, che sono buoni, nessuno dice il contrario, attenzione, io non voglio buttare fango, io sto rimarcando e sottolineando la differenza. Non ha nulla a che vedere con lo yoga, con la meditazione, con l'ipnosi conformista al commerciale, con l'ipnosi paura, con l'ipnosi fuffo, con l'ipnosi da spettacolo, nulla di nulla di nulla. Una delle principali differenze è che tu, con il mio metodo, puoi produrre anche chi non vuole, un tuo caro che sta buttato nel letto, bambino, adulto, anziano, oppure un altro che tu non utilizzi gli auricolari, non devi seguire ruscelli, montagne, niente di niente di niente, devi soltanto seguire le mie istruzioni alla lettera, premere play e non pensare a nulla e dopo giudicare sui fatti, ok? Poi ci vuole un secondo, ci vuole 30 secondi, non è importante perché non richiede il tuo tempo, non richiede il tuo orologio, il tuo calendario, il tuo tempo, è facilissimo. Detto ciò, se hai delle domande fammere, visita la mia fanpage su Facebook, che impronosi e autoimpronosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.impronologiassociati.com, clicca su questo link in basso se vuoi capire di cosa tratta l'Audi MP3 DCS No Droga, che elimina il vizio del drogarsi, senza ma e senza se, e ti aiuta a cambiare rotta, a che il tuo caro chiede aiuto a te, poi giudica sui fatti, poi visita, abbonati, iscriviti anche a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, visita anche i profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, e ricordati, non devi credere, devi fare, 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 e poi esclamare, wow, come è successo a me, a centinaia e centinaia di persone nel mondo, e se sono qui a filmarmi, non è per un tornaconto personale, perché, come ripeto, spesso sto bene da quelle prossime 30 vite, grazie a Dio, anche se sono partito da studente lavoratore senza una lira in tasca, in quel di Modena, tanti anni fa, io lo faccio per darti la chance, la possibilità a te, ai tuoi cari, di cambiare vita, un qualcosa di veramente unico, che non trovi in giro il metodo di CS, di ipnosi di CS, o di ipnosi di CS, vera e professionale, un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, e alla prossima!